E all'insegna dello slogan Cambiamo la Storia, che Ann Mill intende promuovere la 67esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, istituzionalizzata nella seconda domenica di ottobre su richiesta dell'Associazione, che sarà celebrata domani, domenica 8 ottobre, in tutta Italia. Mentre la celebrazione nazionale quest'anno sarà ospitata dalla città di Cagliari, dove parteciperanno le massime istituzioni in materia, la sezione di Imperia ha previsto l'organizzazione delle manifestazioni locali a Porto Maurizio, dove le celebrazioni cominceranno a partire dalle ore 9. Verrà deposta una corona presso il Monumento ai Caduti del Lavoro in zona Prino e in seguito sarà celebrata la Santa Messa in suffragio dei caduti sul lavoro e dei soci defunti, ufficiata nella chiesa parrocchiale di San Benedetto Revelli. La cerimonia civile si terrà invece presso la Sala Auditorium del Museo Navale in zona Borgomarina.